È entrato ubriaco e con una bottiglia in mano nella chiesa di San Pio X, un uomo di 66 anni, ha disturbato e spaventato i fedeli che assistevano alla messa e quindi è stato denunciato dalla polizia. Nel momento in cui sono arrivate le forze dell'ordine, l'uomo ha opposto resistenza e quasi si avrebbe entrato contro di loro, ma dopo si è lasciato accompagnare da un'ambulanza del 118 a pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Il 66enne ubriaco è stato denunciato.